Il caldo anomalo di questo inizio di autunno ha ritardato l'arrivo della cosiddetta influenza stagionale. Se negli anni passati ottobre era il mese dello scoppio di raffreddori e delle patologie delle vie respiratorie, quest'anno il boom del virus potrebbe arrivare in città a metà novembre con il picco massimo a Natale. Fare prevenzione però serve a ridurre i rischi e anche se il freddo non ha ancora fatto la sua comparsa, resta questo il periodo utile per la somministrazione del vaccino anti-influenzale. A Napoli però in pochissimi hanno fatto fino ad oggi questo vaccino, come confermano i farmacisti. Purtroppo questo caldo anomalo ha fatto sì che in pratica i vaccini non siano ancora disponibili neanche all'ASL, quindi sì, purtroppo veramente ancora neanche uno, tranne qualcuno in bustine o in compresse, ma non sono i classici vaccini che si fanno tutti gli anni dal medico di base o che si vendono in farmacia. Qualche richiesta c'è, però sicuramente sono poche rispetto alle medie solite e sì, tra l'altro qualcosa forse incompresse come vaccino, però il classico vaccino anti-influenzale ancora non è neanche disponibile proprio a causa di questi ritardi. Noi abbiamo un grosso assortimento già fatto e non abbiamo venuto nemmeno uno, appunto le stavo dicendo, per il gran caldo che sta facendo in queste ore, in questi giorni. Però è sbagliato. Sì, è sbagliato perché bisogna fare una profilassi prima, almeno un venti giorni prima, quando si sta bene, no no, quando già si ha il raffreddore.